Un vecchietto ateo va da un noto sacerdote perché non riusciva a convincersi che Gesù fosse veramente risosto. Entra nell'ufficio e si accorge che il sacerdote è già impegnato con altre due o tre persone e quindi rimane fuori la porta in attesa che escono. Intanto il prete vede questo vecchietto in piedi nel corridoio, allora esce, prende una sedia e gliela offre. Il vecchietto si siede e aspetta. Una volta terminato l'incontro con quelle altre persone entra il vecchietto e discutono sulla risurrezione di Gesù. Vari argomenti, tutti validi. Il vecchietto è contento. Poi il sacerdote domanda al vecchietto, ma secondo te qual è l'argomento che più ti ha convinto sulla risurrezione di Gesù. E il vecchietto dice, l'argomento che lei ha preso la sedia e mi ha fatto sedere. La santità è fatta di piccole cose, è fatta di piccoli gesti, anche prendere una sedia e far sedere il vecchietto. La grazia santificante che si riceve nel battesimo è un dono con cui Dio ci fa diventare i Suoi figli adottivi. Ci rende partecipi della natura divina, della vita eterna. Quindi noi col battesimo partecipiamo alla natura divina. Il che significa che come agisce Dio nella bontà, nella misericordia, nel perdono, eccetera, siamo anche noi chiamati a farlo. E purtroppo non sempre lo facciamo. E qui siamo chiamati in causa a prendere atto delle nostre responsabilità dei doni ricevuti. Sant'Agostino, parlando dell'adruzione della grazia nei peccatori, ritiene che la bontà della misericordia di Dio, che perdona anche i più grandi peccatori, è un gesto superiore alla creazione del mondo. Bello questo pensiero di Sant'Agostino. L'evangelista Giovanni afferma, chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché un germe divino dimora in lui. Questa impeccabilità presuppone un impegno personale da realizzare giorno per giorno con sacrifici e rinunce, facendo fruttificare quel seme che è la parola di Dio e la grazia santificante ricevuta nel battesimo. Dio ha voluto condividere la sua vita con gli uomini, creandoli e predestinandoli ad essere figli adottivi. Tale figliolanza non richiede opere straordinarie, ma di vivere nella giustizia e nella carità, gli impegni terreni della famiglia e della società e di andare incontro alle sofferenze, agli sbagli, alle debolezze di tutti i giorni con filiale fiducia in Dio. Cioè in sostanza l'uomo prende coscienza che vuole essere grato a Dio ed essere ossequiente, affettuoso e continuo, ma si crede e si vede che è debole. Padre Pio fa l'esperimento a Venafro, che è malato, sta a letto, gli portano alla comunione tutte le mattine, lui mette una camicia bianca sul petto e tutti i frati intorno al letto stanno lì a pregare e una volta ricevuta l'Equalistia va in estasi. La santità non è in questo dono straordinario di Dio. La santità di Padre Pio è essere misericordioso ed essere amante dei fratelli, ed essere figlio della Chiesa a costa di qualunque sacrificio.